siamo con il dottor mantovani presidente di manager italia ecco oggi parliamo di natalità e della difficoltà dell'italia in questo periodo proprio per far fronte a questo incremento di denatalità ecco lei in qualità appunto di presidente di manager italia come creare i presupposti per incrementare quest'ambito è molto difficile serviranno decenni è un cambiamento anche di mentalità molto probabilmente oltre che di condizioni economiche quello che però si può fare è cercare di eliminare alcuni vincoli del mondo del lavoro che ancora vedono in particolare penalizzate le donne nella fase della maternità prima e dopo questo è fondamentale non è soltanto legata alle norme ma proprio anche a modelli organizzativi che oggettivamente penalizzano chi si prende cura dei figli ovviamente si affianca ad un tema di gestione della famiglia e anche di organizzazione della società e in questo senso l'altra cosa che possiamo fare è quella di favorire anche quei sistemi di sussidiarietà di welfare privato solidaristico come i fondi di assistenza sanitaria ad esempio che sono degli strumenti anche qui per alleggerire e rendere più semplice dal punto di vista economico ma anche di organizzazione della famiglia questa fase molto importante appunto di nascita di un figlio in una casa